Hello children and welcome to a new English lesson. How are you? Come state? Oh, spero che siate andati a passeggio con i vostri genitori. Mi raccomando, tenete la distanza di un metro, non vi assemblate. Un metro, come facciamo a calcolare un metro? Se voi allungate la vostra mano, il vostro braccio, e fate allungare il vostro braccio dal vostro fratellino, dalla vostra sorellina, e fate toccare soltanto le punte, ecco, quello dal vostro volto al vostro fratellino, della vostra sorellina, quello è un metro. Quindi quando si toccano le punte, quella distanza di due braccia equivale ad un metro. Mi raccomando, rispettate le distanze di sicurezza, è importante per sconfiggere questo brutto virus. Ricordate la lezione scorsa? La unit scorsa? Bene, oggi iniziamo una nuova, ma prima ripassiamo alcune cose interessanti. How old are you? Ricordate questa espressione? How old are you? Voi sicuramente risponderete I'm six, oppure I'm seven. Che cosa sto chiedendo? How old are you? Ripetete con me? How old are you? Quanti anni hai? E vi ricordate la risposta? I'm six, o sei anni. Six. Basta rispondere anche soltanto il numero. Six. Sei. Seven. Sette. Un'altra. Altre paroline interessanti della lezione scorsa sono tutte quelle che abbiamo studiato. Mom. Mamma. Dad. Papà. Brother. Fratello. Sister. Sorella. Granny. Nonna. Grandad. Nonno. Aunt. Aunt. Zia. Ci siete? Ricordatevele tutte quante, mi raccomando. Eccoci qua. Iniziamo con la nuova lezione, con la nuova unit, che si intitola My Body. Il mio corpo. My Body. Ricordatevi. Body. Corpo. Studieremo delle paroline nuove che vi anticipo. Per esempio, Head. Testa. Hands. Mani. Arms. Braccia. Feet. Piedi. Legs. Gambe. Ok? Iniziamo subito. Osservate queste immagini. Cosa stanno facendo questi bimbi? Stanno costruendo dei pupazzi. Ma cominciamo subito con la lezione... Cominciamo subito con l'esercizio di ascolto. Ok? Listen and point. Al primo ascolto. Ascoltiamo e indichiamo. Ok? Vi ricordo che queste immagini sono in ordine. In ordine di come ve le ho dette io. Di come vi ho dette le paroline prima. Ok? Di come vi ho anticipato. Listen and point. Al primo ascolto. Ascoltiamo e indichiamo. Al secondo ascolto. Listen, point and say. Ascoltiamo, indichiamo e ripetiamo le paroline. Unit 4. My body. Lesson 1. Exercise 2. Listen and point. Say. Body. Head. Hands. Arms. Feet. Legs. Ok? Body. Head. Hands. Arms. Feet. Legs. Ancora una volta e ripetiamo. Unit 4. My body. Lesson 1. Exercise 2. Listen and point. Say. Body. 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 Head. Body. Head. Head. Hands. Arms. Arms. Feet. Legs. Difficile? No? Ok. Se volete esercitarvi ancora una volta e ripetere, mandate indietro un pochettino questa video-lezione e fate ripartire l'audio. Intanto noi andiamo avanti. Ok? E siamo all'esercizio numero 3. L'esercizio numero 3 dice listen and number. Ascoltiamo e numeriamo. Ok? Che cosa dobbiamo ascoltare e numerare? Osservate l'illustrazione principale. Ok? Chi sono questi personaggi? Allora, questi personaggi sono quelli del nostro libro e stanno creando dei giocattoli. Per esempio, who is this? Chi è questo personaggio qua? What's this? Che cos'è questo? A robot. What color is it? Red. Ok? Cercate di rispondermi. Adesso ascoltiamo la traccia numero 48 e cerchiamo di numerare. Pronti? Lesson 1. Exercise 3. Listen and number. Look at me. Yellow legs and purple feet. Look at me. Six red arms and grey hands. Look at me. A red body and a yellow head. Oh no! Look at my head. It's red. Riascoltiamo ancora una volta. Cerchiamo di capire dove mettere questi numeretti. Dove mettere la prima frase. Cioè dove mettere il numero uno. Ascoltiamo la descrizione. Perché ci parlano delle parti del corpo. Questi cominciano con Look at me. Guarda me. Ok? Riascoltiamo la prima. Lesson 1. Exercise 3. Listen and number. Look at me. Yellow legs and purple feet. Look at me. Yellow legs. Legs. Cosa sono? Sono le gambe. Ok? Yellow. Di che colore sono? And purple feet. Feet. Cosa sono? Sono i piedi. Di che colore sono? Purple. E dove mettiamo il numero uno della prima frase? Ok. Ascoltiamo la seconda. Look at me. Six red arms and grey hands. Oh oh. Look at me. Six red arms. Arms. Cosa sono? Sono le braccia. Quante ne sono? Six. E di che colore sono? Red. Dove va il numero due? Ci siete? Ascoltiamo la terza frase. Look at me. A red body and a yellow head. Look at me. Dice l'ultimo dei personaggi. A red body. Body e corpo. Red. Di che colore è questo corpo? And yellow head. Head. Testa. Yellow head. Di che colore è questa testa? Yellow. E mettete. Il numero tre alla frase numero tre. Ci siete? Ok. Adesso faremo l'ultima parte della lezione. Adesso chiudiamo la lezione con questo esercizio. Dove ascolteremo e numereremo. E poi pronunceremo ancora. Listen. Ascolta. Number. Numera. Say. Pronuncia. Ci siamo? Activity Book Unit 4 My Body Lesson 1 Exercise 1 Listen and number. Say. 1. Head 2. Body 3. Arms 4. Legs 5. Hands 6. Feet Riascoltiamo ancora una volta. Ora, questa volta farete da soli. Io non vi aiuterò. Activity Book Unit 4 My Body Lesson 1 Exercise 1 Listen and number. Say. 1. Head 2. 2. 3. 4. Legs 5. Hands 6. Feet 5. Eccoci qua. Fatto? Ok. Se non avete capito, potete rimandare indietro la video-lezione e fare con calma. Ok? Trovare le paroline e numerarle con calma. per oggi ci fermiamo qua ma prima di salutarvi volevo ricordarvi mantenete la distanza di un metro ricordate? braccio allungato e braccio allungato ricordatevi di non andare nei posti dove ci sono troppe persone e se entrate in qualche luogo se andate a fare la spesa con mamma e papà e entrate in un supermercato indossate mascherine e guanti per oggi è tutto vi saluto arrivederci alla prossima lezione bye bye